sport piceno game presenta il calcio la vera magia passione che brucia tra campo e tifosi con passione calcio siamo tutti gloriosi benvenuti alla nuova puntata di passione calcio apremo la puntata parlando dell'asco di calcio ascoltando l'intervento del giornalista barrio rosa la vittoria sul gubbio ha certamente riportato entusiasmo nelle file bianconere una vittoria che serviva che mancava da troppo tempo e che certamente poi servirà oltre al morale a recuperare un po di entusiasmo anche per la classifica che era decisamente deficitaria e adesso c'è questa trasferta a sassari con la torres una torres che arriva da due sconfitte consecutive in campionato a cui si è aggiunta quella di ieri sera con il milan futuro in coppa italia quindi c'è una situazione decisamente complicata sassari con l'allenatore che è sulla graticola e certamente ha difficoltà e che probabilmente una sconfitta contro l'ascoli potrebbe essere determinante per il suo esonero ma l'ascoli deve pensare a se stessa deve pensare a fare il suo la sua partita cercare di conquistare un altro risultato positivo piccoli passetti per uscire un po da questa crisi di risultati ma anche una crisi diciamo ambientale che certamente non aiuta tante chiacchiere tante illazioni tante preoccupazioni anche su quello che è il futuro ma adesso una cosa importante è salvare la categoria rimanere in serie c provare in tutti i modi a salvarsi e mettere insomma un po e fine a tante tante chiacchiere e pensare insomma al sotto pensare a fare punti contro il gubbio non si è vista una partita da entusiasmare gli animi da applausi però è arrivata questa vittoria anche fortunosa su un autogol che però poi è stata anche diciamo completata da una rete annullata per un sospetto fuori gioco da un gol non gol che non è stato visto insomma alla fine l'ascoli l'ha meritata la vittoria e questo speriamo insomma sia un po di buon auspicio ora andare a sassari è certamente complicato il calendario poi è anche abbastanza agevole almeno per quanto riguarda le avversarie adesso tutto si basa sullo spirito con quale la squadra affronterà queste queste gare l'unità che si è vista sia nel l'abbraccio dopo il gol ma anche nel momento di tensione della gara non ci sono state un po di schermaglio con i giocatori del gubbio e sono stati diversi giocatori che sono andati lì a torno all'arbitro a protestare da un po l'idea che la coesione all'interno della squadra siamo siamo entrate ci sia la voglia di comunque di reagire brutto il gesto di rifiutare la maglia di varone a fine partita un giocatore che andato sotto la curva a consigliare la maglia sono cose anche un po tristi da vedere però è anche un segnale che ancora con la tifoseria il rapporto è molto molto complicato io spero e mi auguro penso ma l'ambiente si possa ricompattare più che altro ripeto perché c'è una salvezza da conquistare al di là di come finirà di come sarà poi il futuro della della società con questa offerta che pare sia arrivata per rilevare la società di pulcinelli ma al di là di tutto c'è un risultato sul campo che va che va difeso a tutti i costi ebbene sì finalmente dopo oltre due mesi l'ascoli è tornato a vincere lo ha fatto in casa contro il gubbio una partita difficile una vittoria voluta cercata anche sofferta arrivata grazie ad un autocoll su un'azione avviata da tremolata e rifinita da cozzoli al quarto d'ora del primo tempo una partita dove l'ascoli forse rispetto ad altre gare ha giocato possiamo dire peggio perché comunque il gubbio ha avuto più occasioni dei bianconeri però come ha detto il mister di carlo in sala stampa dopo il match una vittoria da squadra una all'ascoli è stata squadra fino al 95esimo e non dimentichiamo che nella ripresa sono stati due episodi molto dubbi con protagonista sempre corazza in prima occasione fuori gioco abbastanza da rivedere dubbio e poi un ancora corazza che probabilmente ha avuto un'occasione chiottissima la buttata in porta la palla la palla che il regolamento dice che dovrebbe superare per intero la linea di porta questo lo può sapere solo il guardaline perché appunto in serie c non c'è il var però è sembrato è gol quindi volendo dando il gol e togliendo il fuori gioco l'ascoli potrebbe vincerla 3 a 0 però obiettivamente sarebbe stata una punizione troppo severa per un gruppo che comunque la sua partita l'ha fatta è un gruppo che comunque è stato molto grintoso forse troppo visto che ha chiuso il match in nove contro undici in virtù di due espulsioni appunto combinate a due giocatori umbri una vittoria che lancia l'ascoli a 15 punti un po più tranquilla ora alle sue spalle c'è anche il ponte d'era che ha perso ieri sera contro la lucchese quindi diciamo che adesso l'ascoli si capisce proprio l'importanza della vittoria che può dopo quattro pareggi consecutivi dove aveva fatto piccoli passi in avanti i tre punti danno un notevole slancio alla formazione di mister di carlo e auguriamoci che appunto questa vittoria possa sbloccare anche a livello psicologico la formazione bianconera che è attesa domenica prossima da un test abbastanza difficile in quel di sassari contro la torres in casa di una squadra che si parte in classifica ma che nelle ultime tre partite ha totalizzato un punto quindi non sta attraversando il suo miglior momento di forma tornando al match casalingo contro il gubbio diciamo che la squadra ci è sembrata un po più compatta in difesa diciamo che ecco è parsa meno spettacolare con meno meno occasioni da gol create ma è stata una squadra di categoria l'ascoli ha ottenuto questa vittoria da squadra di categoria e questa è la cosa più importante quindi auguriamoci che questo sia questi tre punti siano i primi di una lunga serie o perlomeno di poterci far chiudere il girone d'andata con un buon bottino di punti mancano tre partite al termine del girone d'andata perché saranno due le trasferte appunto la prossima domenica a sassari contro la torres poi in casa giocheremo la penultima del girone d'andata contro il sesto rilevante e l'ultima del girone d'andata sarà a legnago contro l'ultima in classifica come avete ben capito il sesto rilevante è penultimo il legnago è ultimo auguriamoci che anche il calendario ci ci possa dare una mano era ora finalmente contro il gubbio è arrivata una vittoria che assume una grande importanza per l'ascoli che si affanna si ad opera per recuperare posizioni in gradatoria una classifica in vero quella del girone b della serie c è ancora piuttosto corta soprattutto nella zona intermedia dove l'ascoli spera di giungere il prima possibile il successo con gli egubini umbri è maturato attraverso un autogol di pirrello al quattordicesimo minuto ma l'ascoli ha gestito bene poi il rimanente incontro dunque tutto il tempo poi per arrivare al novantesimo con una gestione abbastanza equilibrata è un gioco che per certi versi è apparso positivo ma è chiaro che deve dare la formazione bianconera molto molto di più di quello che finora si è visto ad iniziare dalla trasferta di sassari contro la torres una formazione che dopo l'insuccesso lo 0 a 1 di ferrara maturato con il gol dell'ex bianconero buckel al dente avvelenato e quindi cercherà di riscattarsi proprio contro la formazione bianconera che di contro invece cercherà di dare seguito al successo contro i rosso blu umbri un incontro come detto ben disputato che lascia anche delle speranze di riscossa per la formazione bianconera di ritrovare quel gioco che cerca di carlo per dar sicuramente un'impronta migliore cercare di superare gli antagonisti di turno certo ci vuole molto di più a sassari contro una formazione che veleggia tra le prime posizioni della classifica sarà un test molto importante un po un test della verità ci farà capire se l'ascoli in grado di sostenere incontri contro avversarie di un certo rilievo perché il potenziale sia dell'ascoli che della torres è di valore o se dovrà accontentarsi di navigare nelle zone basse della classifica speriamo naturalmente di no perché lì ci sono poi dei rischi connessi quello di scivolare irrimediabilmente è ancora più in basso ma sicuramente l'ascoli per il potenziale come dicevo che ha per la voglia per una tifoseria che è decisamente unica in italia può recuperare può rilanciarsi ritrovare quella spinta quell'aere per salire sempre più in alto in graduatoria non ci dobbiamo illudere del successo sul gubbio arrivato anche contro una formazione che presentava diverse assenze tra i titolari non dobbiamo illuderci sicuramente perché la partita è stata una singola vittoria quindi c'è bisogno di inanellare una serie di vittorie queste possono arrivare solo attraverso una grande spinta sia emotiva ma soprattutto che derivi dal carattere dal sacrificio dalla voglia di fare e soprattutto dal cuore quello che mettono i tifosi speriamo venga messo in campo anche dalla squadra speriamo sia così passione calcio proseguiamo puntata parlando del calcio eccellenza femminile marche e della settima giornata del campionato della san benedettese calcio ad opera il servizio di chiara poli vittoria importante quella della san benedettese femminile che batte per sei reti ad uno il treia nella settima giornata del campionato di eccellenza marche sale a quindi a quota 15 la squadra guidata da mister pompei risultato netto anche se c'è stato un iniziale svantaggio con un bel contropiede poi finalizzato da giulia mari con un pallonetto che sorprende l'estremo difensore rosso blu nella prossima sfida le rosso blu saranno impegnate nel big match contro la re canatese in trasferta sabato 30 novembre alle ore 15 una partita molto delicata che potrebbe decidere il vertice e cambiare insomma le carte in tavola in questa classifica passione talcio la puntata parlando dell'ultima giornata di campionato calcio amputati disputata a Roma lo sporting am football ha conquistato il titolo di campione d'italia 2024 al termine della terza tappa del campionato italiano di calcio amputati disputata il 23 24 novembre al centro sportivo w eur di Roma il ct della nazionale francesco ramunno ha elogiato il livello tecnico del campionato segno di un movimento in crescita premi individuali miglior giocatore paolo capasso capocannoniere capasso e paduan 5 gol miglior portiere tommaso movia miglior under 23 lorenzo marcantognini passione calcio passione calcio termine qui vi dà appuntamento alla prossima puntata se vi è piaciuta mettete un like e seguiteci sui nostri social spartice no game ha presentato il calcio la vera magia passione che brucia tra campo ai tifosi con passione calcio siamo tutti gloriosi